Musica Ci sono cose nella vita che bisogna vedere per crederci e non parlo dei paesaggi, quelli sono eloquenti. Quello che si vede è bello, ma quello che si sente è meraviglioso. Come veniamo accolti, come ci capiscono e come condividiamo esperienze. Ci sono luoghi dove, senza sapere il perché, ci sentiamo a casa. Questo è uno di quelli, non sembra, ma dentro scoppio di gioia. Musica 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 Musica